Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovissimo unboxing pokemon sfida con la mia fidanzata Ciao ragazzi Finalmente Mamma mia Finalmente ci andiamo anche noi a sbustare la collezione di Charizard Charizard V di Lance Trovata totalmente a fortuna raga in edicola Veramente a fortuna in edicola Perché neanche il mio fornitore era riuscito a trovarmela e a farmela avere Perché come sappiamo tutti ci sono stati dei tagli nelle quantità Addirittura gli e-commerce e gli store Purtroppo hanno avuto le quantità ridotte rispetto agli ordini che hanno fatto Quindi l'ho trovata veramente a fortuna Anche perché poi ho girato altre edicole e non l'ho più trovata Era già stata venduta Quindi era il destino Era il destino che questa collezione finisse nelle mie mani Che magari la dobbiamo trovare Speriamo Speriamo Come si dice la speranza è sempre l'ultima a morire Che bella che è Ce la siamo tenuta per ultima E ovviamente abbiamo aperto Zazen Abbiamo aperto tutto il resto Dobbiamo aprire ancora tante cose Dobbiamo aprire la valigetta Quale valigetta? È una valigetta di metallo Non so se l'hai mai viste No non le hai mai aperte con me sul canale Sono delle valigette di metallo E dentro ci sono vari gadget Sì Non so se l'ho mai aperta Però ho capito quali sono Allora il solito foglietto Ragazzuoli mi raccomando Prima di iniziare l'unboxing Ricordatevi di iscrivervi al canale Di attivare la campanella E di lasciare un bel like Raga è gratuito E a noi ci date un grandissimo supporto Intanto mentre parlavo Stavo guardando Guardate le decorazioni Con la testa di Pikachu Bellissime raga L'hanno fatta veramente bene Allora Pokémon degli allenatori Ti va di fare un tuffo nel passato I primi Pokémon degli allenatori Hanno fatto il loro debutto Nell'espansione Gym Herois Più di vent'anni fa Gli allenatori dell'epoca Certamente ricorderanno beniamini Quali Blaine's Arcanine O Rocket Zapdos Raga Carte veramente Che poi Rocket Zapdos C'è anche in questo set Te l'ho fatto vedere Il nome dell'allenatore È parte del nome della carta Perciò Blaine's Arcanine Poteva evolversi solo da Blaine's Growlit E non da un Growlit qualsiasi Nell'illustrazione di queste carte Appariva anche il volto dell'allenatore Per facilitare il riconoscimento Di personaggi come Brock, Misty o Erika Ammesso che fosse necessario Charizard V di Lance Unisce lo stile dei Pokémon degli allenatori Alla potenza dei Pokémon V È un Pokémon base come tutti i Pokémon V Anche se di solito Charizard È un Pokémon di fase 2 Tuttavia poiché di Lance È parte del nome della carta Può includere nel tuo mazzo Fino a 4 Charizard Vabbè questo è per giocare Questa eccezionale illustrazione Vede Charizard Dal fianco del suo leggendario allenatore Lance Famoso campione e membro dei Super 4 Il legame tra un Pokémon e il suo allenatore È qualcosa di davvero speciale Andiamo Da paura Andiamo Via Finalmente Andiamo a sbustarci Come i bambini Come i bambini Felici Vabbè ma anche un modo per tornare i bimbi Dai raga Ce lo possiamo concedere Allora questa qui è la Jumbo Mamma mia Mamma mia che artwork raga Questa è una carta veramente stupenda Eccola qui Ecco qui la promozionale normale Che andiamo a proteggere istantaneamente Perché questo non stiamo parlando di Sylveon di Dragapult Stiamo parlando di Charizard ragazzi Questa la mettiamo Guarda te la metto dalla tua parte Meno ti fa compagnia E spero che ti dia la giusta fortuna Allora io mi prendo Queste due Tu ti prendi questa Questa Fiamme oscure ancora Con il pacchetto di Charizard Come nella collezione di Sylveon Questo è il codice Che vi regaliamo ovviamente Questo buttiamo tutto E andiamo a spacchettare Vai adesso inizia tu Inizio io L'altra volta si è iniziato tu Adesso inizio io L'altra volta ho trovato Un Un umilissimo Talon Flame V Nel pacchetto di Voltaggio Speriamo che stavolta Riesco a pullare una Mazing Che è veramente tanto Che non le trovo Allora Codice per voi Almeno riscattateli voi Trovatelo voi Il Pikachu V Max Hyper Perché io ci ho perso Veramente le speranze Quella è una carta Veramente Che sta solamente Esiste solamente Nei miti e nelle leggende Stadio di Golwick Rock Ruff Voltorb Pociena Shuppet Shuppet Funfree Vediamo se c'è l'Amazing No La reverse ovviamente Non c'è niente Ma restai tranquilla Vai Io ho convinto C'è qualcosa Invece Tu devi trovare qualcosa qui Sì Io devo trovare qualcosa Qui ci sono due Charizard Uno V E uno V Max Ok Riuscite ad aprirlo Vai Spacca tutto Ragazzoli Mi raccomando Quando li riscattate Scriveteci nei commenti Cosa vi trovate Mi ricordo Una volta un ragazzo Mi aveva scritto Ho trovato Il Charizard Di Di destino splendente Poi ovviamente Raga bisogna vedere Se è vero Però cavolo Perché già Comunque Bisogna essere veloci Nel riscattarli Perché devi essere lì pronto Appena esce il video Perché Comunque La gente li vede E Prova a riscattarli In più Trovarci anche il Charizard Di destino splendente Vuota Dai 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 Che droppiamone in gran festa Pronta? Sì Dai 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 la collezione di Charizard Deve regalarci una carta Degna del suo nome O no? Sì Una bella cartina Già lei nella Lucrezia Nella collezione di Quale? Pikachu Pikachu Viunione Aveva droppato Il tenente Del team rocket Sì Di Umbreon Di Umbreon Gold Star Sì perché poi siamo andati A ricontrollare Esatto E raga in quel video Mi ha fatto veramente Perdere dieci anni Allora Zekrom Vediamo se c'è Non c'è la fuori serie Reshiram Bellissimi Con lo stesso stile Di artwork Bellissimo sto stile Comunque Vediamo Pikachu Un altro Pikachu Sì ma ti ho detto Questi se ne trovano tantissimi Veramente tanti 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 Vai Però un puntarello Un puntarello L'ho fatto Ah quindi pure quello Vale qualcosa Sì sì Questo un puntarello L'abbiamo fatto valere Vai apri la tua E trovami qualcosina Te ne prego Allora Codice Dai 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 Una bella fuori serie In questo In questo video Allora Lugia Ivelta Il piano C'è qualcosa Vediamo Vediamo il bordo C'è qualcosa Il bordo Non è fuori serie No quella dopo Eh ma quella dopo Non so se trovi Trovi belle cose Infatti Zama Zenta V Un punto anche perché Quindi l'importante è la terza Sì poco male perché No perché nella quarta Potrebbe esserci anche il Mew Gold Ah cavolo Minch Potrebbe Quello sì che è importante Di belle può starci Possono starci il Mew Gold E il Professor Oak Full Art Mew Gold Quello Sì perché è una carta recente Quindi va messa L'hanno messa All'ultima posizione Capito perché Nei pacchetti recenti Diciamo la carta Buona è all'ultima La carta rara È all'ultima Mentre nella In terza posizione Puoi trovare Le fuori serie Capito? Il Mew Gold Era uno Tra i sei Che avevamo detto Tra i sette Tra i tuoi sette Obiettivi No ma uno L'abbiamo trovato Ah quelle rimangono sei Sì esatto Allora intanto Questo non si apre Raga fate attenzione Ad aprire questi pacchetti Perché i bordi Delle carte Sono fragilissimi Allora Pronta? Ultimo pacchetto Per me ovviamente Dialga Palkia Uh un segno Dialga e Palkia Guarda dai Vediamo se c'è la fuori serie C'è No Cacchio L'ho spoilerata C'è Blastoise E speriamo che non sia un altro Shining Magikarp Blastoise Eccola qui Starter di prima generazione Non è il Charizard Ma ha trovato un suo Un suo compagno Un suo degno rivale Wow che bella Bellissima Benusaur Blastoise Manca solo lui Sei contento? Contentissimo Ah così Veramente contentissimo Blastoise ci mancava ragazzi Bella Bello bellissimo Allora Cioè che poi Tutti i commenti Che non c'era niente No perché l'ho switchata due L'ho switchata tutte in pratica Esatto Però poi ho visto il ruido Mi sono un po' Allora Siamo 4 a 3 Siamo 4 a 3 No 4 a 1 Che 4 a 3? Guarda di questo momento Perché non ricapiterà 4 a 1 4 a 1 Mamma mia Non ricapiterà più Non so se Sperare che mi trovino Fuori serie Oppure Ma tanto Andremo a pareggiare Oppure se mi trovi Se non trovi niente Così proprio Vinco E' tantissimo Che posso Che non Non posso dirlo Che poi vinci Con Il Charizard Cioè con Con una bella cartina Con una bella cartina E poi vinco Nella collezione No no Trova me sta fuori serie E pareggiamo Tranquilla Allora Reshiram Piano eh Vediamo se c'è qualcosina Oh oh Tutto fuoco Tutto fuoco Hai trovato Zekrom Hai trovato anche Zekrom Mamma mia Vai switch Anche l'altra tu Switch Etela tu Ok perché potevi trovare Una via e vincere Capito Mamma mia L'ha trovati tutti Mi ha trovato Reshiram Nello scorso video Non ce l'hai qui Che glielo fai vedere Eh no E' già nel suo album A fare le nane Protetto da Otto Sleeve Mamma raga Zekrom è bello Perché è nero Tutti e due Ok quindi Ce ne restano cinque Da trovare Ce ne restano cinque No Di meno Perché Abbiamo trovato anche Blastoise No Ah no Non c'era Blastoise Io non ce l'avevo Non erano Quelli che mi piacevano Ragazzi Zekrom è stupendo Bello Mamma mia Che artwork Cioè Veramente Con questa rivisitazione Moderna È stupendo Bellissimo Allora Proteggiamolo Eh direi che anche la collezione Di Charizard Si è rivelata Comunque non ho perso Mamma mia davvero Non muore mai Non ho perso Cioè veramente È imbattibile Non ho vinto Ma non ho neanche perso Male che gli va Mi concede il pareggio Però Oh Per noi è una vittoria Sì Cavolo Dopo una serie di Non so quante sconfitte Ormai ho perso veramente il conto Allora facciamo vedere Perché stavolta La promo merita Di essere rivista Nel frattempo Raga vi ringrazio davvero tanto Di essere arrivati Fino a questo punto Queste non le faccio neanche vedere Perché ormai le conosciamo Blastoise e Zekrom Sono uscite due signore full art Due signore fuori serie Bellissime Mi raccomando Iscrivetevi al canale Lasciate un bel like E fateci sapere nei commenti Voi se avete trovato Perché qui C'è da trovarla La collezione di Charizard Se l'avete sbustata E che cosa Avete trovato all'interno Noi vi ringraziamo Ci vediamo in un prossimo unboxing Ciao ragazzi Ciao 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 Grazie a tutti.